Buone notizie in casa TM. A maggio arriveranno altri tre autobus che rafforzeranno la flotta attualmente disponibile. L'azienda ha inoltre incassato l'ok dalla Regione per il finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per bandire finalmente la gara d'appalto che grazie anche ad un finanziamento del Ministero da 5 milioni e 700 mila euro porterà nella sede di Via La Farina altri 32 mezzi. La procedura probabilmente però non si concluderà entro l'anno. Intanto da qualche giorno è possibile acquistare il biglietto direttamente sui mezzi ad un costo però maggiorato di 30 centesimi. Da 1,20 euro si passa dunque a 1,50 euro per chi decide di munirsi del ticket a bordo del bus. Novità anche in ambito di parcheggi. Dopo l'ok alla delibera da parte della Giunta Comunale dal prossimo primo aprile il parcheggio Zaera nei pressi della Villa Dante sarà attivo 24 ore su 24 alla stessa tariffa attualmente applicata. L'ATM conta a breve di estendere alle 24 ore anche il servizio del parcheggio Cavallotti.